I doppiatori di Aspirina tornano in scena in uno spettacolo a Palazzo di Città, nelle serate del 5 e 6 gennaio, portando al semprefolto pubblico, le prenotazioni sono già in esaurimento, le nuove produzioni inedite e gli immancabili classici. Nuova anche la formula dello spettacolo, che con un notiziario in stile TG introdurrà i doppiaggi di personaggi politici in vista su argomenti di attualità. Formula anticipa la nuova trasmissione che andrà in onda su Canale 12 a partire dal 10 gennaio, che riporta in tv, dopo 12 anni, i fortunati cortometraggi di Aspirina con tutte le creazioni ancora inedite. Sullo schermo di Palazzo di Città saranno proiettate tre nuovissime produzioni, una sul Consiglio Comunale, una su un film di Almodovar e un'altra su un vecchio classico con l'indimenticabile John Wayne nei panni di un marinaio bugiardo. I doppiaggi coinvolgeranno o chiameranno in causa tanti personaggi sassaresi, mentre si ripropongono i fortunati stilemi della tradizione aspirinesca con indigeni che parlano in campitanese, con l'esaltazione dei tratti piccanti del sassarese, senza però scadere nella volgarità gratuita. Sempre precisa la misura dei doppiaggi sui movimenti labiali degli interpreti originali dei film o delle istituzioni. Sul palco ci saranno Marco Sanna, Simone Maolu e Carlo Valle. Assenti invece in questa tornata Maurizio Sanna per impegni personali. I biglietti di prenotazione sono disponibili presso il negozio Vetera in Piazzatola a Sassari. Tutto il giornale, compreso vai. Eh eh, sei tu che sei troppo puntiglioso, ma non ti credi che ci sono tutti quanti in secca a doia.